L'espaisere della Trama Tanto la Trama Tanto la Trama Tanto la Trama Tanto la Trama L'espaisere della Trama Io non l'abbiamo mai vista, non l'abbiamo vista la televisione quelli del parco e quelli di parco li mandano tutto a macelli perchè le raccoli sono molto costi ora questi ragazzi io pensavo lunghi ma non pensavo così dentro la via è disastrosa ma di brutto glielo puoi tagliare tutto insieme perchè poi li crescono i capillari capito? no fa sangue hai provato a fare delle ricerche su internet? ho guardato in tutti i modi non mi riesci a capire per quello dico del dedo perchè lui ne ha visti 50 miliardi di asini c'è un'esperienza mostruosa Pablo perchè io ti devo appoggiarmi? si dice anche se è possibile ripigliarli perchè non lo so si ripigliati se c'è uno come dico io e anche noi stavamo maneggiando mai eh no perchè c'è stalloncini per lì non mi stanno e da appunto si stavamo maneggiando vieni 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 ci fanno anche la foto non hai punta pazienza che si vede che lei era abituata perché sembra che sia una cosa normale per lei in genere quando le prendi dietro specialmente cominciano a tirare certo con queste manone ce la fai